I nostri microfoni hanno intervistato anche due giovanissime leve della Boccia Savona, riprese da un'altrettanto giovanissima leva che si chiama Nicolò Torello. Andiamo a vedere il video Boccia Savona 6, grazie Antenna Blu. Direttamente dalla Boccia Savona con due giovanissimi promesse che andiamo subito a presentarvi. Iniziamo da Alessia, da Florio e non salete per farlo e dica la Boccia. Se la stai dentro come un pazzo di nuovo talento Nicolò Torello che ci sta sapientemente riprendendo. Allora Alessia, iniziamo da te. Come inizia questa passione con le Boccia? In realtà mi ha portato a buon perché all'inizio tutto volentavo fare una cosa perché pensavo che si è felice. Lui invece l'aveva iniziata, non c'è ce le vuole per dire che è la Boccia Savona. Ma come si è avvicinata tramite la scuola, la famiglia, le scienze? Allora perché abbiamo stato giocato a Sant'Evite e poi dopo un po' di mesi mi diceva vieni a provare, vieni a provare, allora oggi ho la seguita. Ma che bella cosa, quindi il nonno che ha trasmesso la passione di Boccia Savona. Quali pensi di questo sport? È uno sport, non è? Sì, sì, è uno sport. Beh è una cosa bellissima, bisogna essere tranquilli perché serve tanta calma per giocare. È un bellissimo sport che ne vale la pena di trovare. Avete sentito carissimi telespettatori come sono maturi questi bevi giocatori e giocatrici di Boccia? E intanto se la ride anche un altro talento, il russo della società, Nicola Rossi, figlio d'arte, figlio di Roberto Rossi. Allora ragazzi facciamo un ultimo saluto per i telespettatori e invitiamo un po' i più giovani ad adicinarsi a questo sport. Innanzitutto è un bellissimo sport che può essere praticato sia singola che in centro, magari singole e anche in coppia e in questo è giocato di persone da questa società. E quindi che consiglio di dire per coitare? Beh di non farsi ganare dal pensiero che è uno sport per vecchi, come pensano tutti, ma di buttarsi perché è un mondo bellissimo. Grazie quindi a Michela, ad Alessia, a Cafforio e naturalmente alle riprese del mitico Nicolò Torrello. Alla prossima! Torrello che ha solo 11 anni per dire cari telespettatori. Quindi un saluto a tutti i ragazzi insomma al settore giovanile della Boccia Savona nel presidente Fabrizio Rossello. E da Savona vogliamo a Cacare, quindi rimaniamo nella stessa provincia ma in Val Bormida. Andiamo a vedere due video che sono stati realizzati all'interno appunto della Bocciofila Carcarese, squadra per la quale io partecipo per svolgere il campionato di serie A femminile e siamo ancora prima in classifica. Dalla Carcarese qui con 1, 2, 3, 4 giocatori e altri due che stanno facendo un bel testa a testa. Si tratta di pizza con Antonio Berzano. Iniziamo da Leoncini. Quante volte vi allenate in questa società? Vi dovete avvicinare gentilmente? Io? Due volte a settimana. Da quanti anni? Eh, parecchi, parecchi, parecchi. Sentiamo invece la camicetta di Gia, allora ci racconta. Io gioco molto figlio di loro, sono un po' grande di loro, però mi diverto. E' un passatempo anche qui. E' un passatempo, certo. Sentiamo allora adesso il Maglione. Il Maglione. Il Perugio, niente, uno pensionato, toglie due giorni, gioco poco, perché ci sono male. Però qui c'è un V, un C e un V. Tutte le caratteristiche, quindi invece per darci un po' di gioco delle bolle. Passa il tempo, l'appensionato. Passatempo per tutti, chiedo gentilmente alla Iosella Lombardi, che fa parte della Commissione Tecnica Nazionale, adesso in questa occasione, in veste di camera, meglio inquadrare l'accosto del giocatore pizza, concentratissimo, sebbene si tratti di allenamento, su via. Rotola la voce, rotola, 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 rimarrà nel campo? No, fuori, forse è stata l'emozione. Inquadriamo ancora un momento di gioco. Nuovamente pizza all'accosto. Vedremo se cucinerà una buona margherita. Preparato. Molla la goccia. Cammina, cammina, cammina. Ed è corta. Ed è corta. Ed è un pallino. Dai pizza, facci vedere una bella pallinata. Il giocatore pizza non riesce a togliere, a fare il punto quindi, e di conseguenza decide di bocciare nel pallino per annullare il tiro e ripeterlo. La cosiddetta mano nulla. Intanto Leoncini si sposta per precauzione. Pizza l'ha bocciata. È pizza che prende il pallino! Complimenti! Lo diciamo tutti? Lo diciamo tutti quanti? Al mio 3, 2, 1, con tala question, per bocce ferme? Lo diciamo? La Lombardi intanto inquadra. Leoncini, vieni qua. Al mio 3, anzi 3, 2, 1, diciamo tutti insieme bocce ferme. Bocce ferme, come il nostro programma. Ci siamo? La Lombardi compresa deve dirlo. 3, 2, 1, bocce ferme! Bocce ferme anche da qui naturalmente in studio. Vediamo se la regia di Antenna Blu ci ha riservato un altro video riguardante questa variegata società. Si gioca anche a Carcare, presso la bocciofila carcarese. Andiamo a vedere qualche momento di gioco. Inquadriamo il giocatore che si chiama Felpa Blu? Si chiama Giorgio Pesce. Giorgio Pesce. Siri Giuliano. Leoncini e Luciano. Un'istituzione Leoncini qui nella Val Borbida. Due bocce d'accosto. Un accostatore. Vediamo la boccia dove prosegue. Leggermente corta. Un altro accosto. E la boccia toglie. Leggermente dietro al pallino e marcata con la bacchetta dal giocatore. Un'inquadratura sul pubblico. Sempre numeroso anche durante le giornate feriali di allenamento. e all'accosto Antonio Beltrami. Inquadratura su un altro accosto. Seguiamo anche questa boccia. Boccia dritta ma corta. Attendiamo una bocciata. Sì, sarà quella di Leoncini. Concentrazione al massimo. Il pubblico attento. Andiamoci a godere la bocciata di Leoncini. Intanto pizza che viene verso di noi. Un momento di attenzione. Su Leoncini. La boccia in aria. E boccia colpita. Complimenti. Un saluto dalla Cacarese. Abbiamo quindi dedicato uno speciale savonese. Dalla boccia Savona alla società di Cacare. Val Bordidese. Andiamoci a vedere però adesso. Insomma è giunto il momento clou della trasmissione. In quando andiamo a vederci delle foto meravigliose. Che sono state scattate dal fotografo. Possiamo dire ufficiale. Delle bocce. Ovvero Dante Bonino. Riguardante che cosa? Riguardante un risultato strepitoso. Che è stato ottenuto dalla nazionale italiana Under 23 e Under 18. Perché sono appena conclusi i campionati europei giovanili appunto a Saint-Boulban in Francia. Eccoci qui con Alex Zoya, friulano. Medaglia d'oro nel tiro progressivo. Insieme ai genitori. Una soddisfazione enorme. Infatti è stata stupenda la prestazione della squadra azzurra Under 18 e Under 23. Quindi giovanissime leve. Un orgoglio nazionale. Un esordio col botto per il CT Enrico Birolo. Che con la sua esperienza la classe dei ragazzi convocati ai campionati europei volo Under 18 e Under 23 a Saint-Boulban. Ha centrato, pensate, 5 podi su 6. Un un oro e 4 argenti. 3 su 3 negli Under 18. Un oro, quindi questo di Alex Zoya e due argenti. E argento per Samuel Zagner, anche lui friulano, nel tiro di precisione. Argento per Stefano Aliverti e Alex Zoya nella staffetta. Due podi su 3, quindi per l'Under 23 due argenti. Proseguiamo con le immagini. Ecco qui i medagliati. Qui abbiamo Samuel Zagner sulla sinistra con la medaglia d'argento, quindi equivale al titolo di vice campione europeo. Proseguiamo con le meravigliose foto di Dante e Bonino. Vediamo che cosa ci riserva la regia. Se c'è qualche altra foto. Andiamola a vedere insieme. Qui il podio che ritrae Zagner sul secondo gradino a sinistra. Complimenti davvero ragazzi, siete il nostro orgoglio. L'esordio quindi del CT Birolo che da pochissimo investe appunto questo ruolo così importante. Qui Dario Campana con Zagner, preparatore atletico di livello nazionale. Un risultato strepitoso a dir poco, anche se l'Italia comunque si comporta sempre meravigliosamente bene nelle competizioni internazionali. Proseguiamo ancora perché fa davvero piacere vedere queste foto. Qui i due friulani, Zoya sulla destra e Zagner sulla sinistra con al centro il soddisfatto Dario Campana, loro preparatore. Proseguiamo ancora, vediamo cosa Antenna Pluccia ha riservato. Un bel podio europeo. Qui sulla sinistra della foto un nostro ospite telefonico, Roberto Favre, che fa parte della Commissione Ternica Nazionale. Ed è anche Presidente della Commissione Ternica Europea, se non sbaglio. Mi correggerete se sbaglio. Qui nuovamente Zoya con i genitori. Proseguiamo ancora. Nuovamente qui Zagner, friulano sulla sinistra con la medaglia d'argento. Ricordiamo che per la Nazionale Azzura facevano parte anche lo splendido Matteo Mana, un giocatore veramente dal talento ineguagliabile, ma anche il piemontese Emanuele Soggetti e l'altrettanto piemontese Stefano Liberti. Raccoglieremo delle foto per la prossima puntata, insomma, per dare spazio anche ai giovani che hanno conquistato, gli altri giovani che hanno conquistato questo risultato davvero strepitoso. Direi quindi di ritornare in regia, inquadratura quindi su di me, sulla soletta oggi, ma con tanti contributi grazie ad Antenna Blu che attraverso i nostri viaggi itineranti all'interno delle vociofile locali e non fa scoprire a casa anche a chi non fa parte di questo ambiente il nostro così peculiare mondo. Salutiamo, ho un po' di saluti da fare. Salutiamo, pensate, Postantino Soro che ci segue dalla Sardegna, giocatore di bocce, a Giuliano Cefeo Chiavarese e a suo figlio Matteo Cefeo che milita nella Chiavarese in Serie B ma anche a Dante Bonino che ci ha fornito queste foto meravigliose a Paolo Gerardi che fa parte del comitato di Massa Carrara, lo salutiamo, ciao Paolo e si sta dando molto da fare per promuovere l'attività giovanile all'interno di questo comitato a Derrico Birolo, naturalmente un nuovo Citi della Nazionale a Claudio Gaffoglio che ci segue sempre in diretta streaming da Torino a Marco Destro del gruppo Amici delle Bocce che reduce, se non sbaglio Marco, da una bellissima vittoria, a Fabiana Rebora che presto avremo ospite nei nostri studi che si occupa di scrivere articoli sulle bocce e alle società Bolzanettese e Toso di Arenzano. Direi di concludere qui, vi lascio con un video bellissimo di un altro nostro amico di Marco Galliande che fa delle foto anche lui stupende però vi voglio leggere un brevissimo passo del solito libro Scampoli di Bocce nell'Elevante Ligure andiamo un po' così, il bello della diretta è anche questo andiamo a vedere cosa posso trovare eccolo qui effettivamente lo sport vive le sue emozioni e le trasmette alle appassionati che lo seguono suscitante ammirazione ed entusiasmo per quei campioni che esprimono il massimo delle loro grandi capacità. Bocce Ferbe si chiude qui come sempre vi do il mio più caro saluto rinnovo l'appuntamento a lunedì prossimo ore 19.30 un breve resoconto delle nostre repliche martedì 13.30 e 18.30 sabato 13.30 e domenica alle 11.00 del mattino e diretta streaming per tutti coloro che abitano fuori regione perché siamo internazionali poi è in tena blu, la tv la fai tu Bocce Ferbe alla prossima A presto 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 A presto